... Martedì 20 luglio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa che apriamo sulla questione Covid in Molise con la paura di un aumento dei casi per la variante Delta, oggi attesi i risultati del sequenziamento che sta avvenendo al Cardarelli di Campobasso, intanto dall'ultimo bollettino si evince una tregua dell'emergenza, sentiamo. Variante Delta, il laboratorio di microbiologia del Cardarelli lavora intensamente per accertare quelli che ancora per poche ore saranno solamente dei sospetti e che in particolar modo riguardano il cluster esploso a Guglionesi. Nelle ultime ore il contagio sta concedendo una tregua relativamente agli ultimi tamponi processati, 298 non risultano nuove positività e anche in corsia non ci sono stati nuovi trasferimenti. L'unica paziente Covid dall'ospedale di Campobasso è la 36enne proprio di Guglionesi, le cui condizioni appaiono migliori rispetto al momento del ricovero. Il responsabile del laboratorio, il dottore Massimiliano Scutella, sta procedendo al sequenziamento dei campioni. Fino al termine della settimana ne verranno analizzati 50. In maniera approfondita il timore è che molti si riveleranno riconducibili alla variante Delta. A Guglionesi intanto il sindaco è stato costretto a chiudere il comune. La struttura è stata sanificata ma fino al 24 luglio si riceverà solo suo appuntamento. La decisione è stata assunta dopo la positività riscontrata al tampone rapido di un ragazzo che sta svolgendo il Servizio Civile Universale. Il sindaco Bellotti ha invitato nuovamente la cittadinanza a rispettare le disposizioni previste nelle scorse ore, quindi a indossare la mascherina anche all'aperto e a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875 689010. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 103.979 le persone in isolamento. I titoli dei quotidiani partendo dal locale. Primo piano Molise, nuovi parametri. Molise a rischio. Bastano due ricoveri. In rianimazione per il cambio di fascia il governo ipotizza di abbassare dal 30 al 5% la soglia di occupazione della terapia intensiva. I posti disponibili erano e sono 39. Intanto il Covid Hospital resta un miraggio vasile della Fialz. Immobilismo inaccettabile. Il bollettino tra 100 tamponi, nessun positivo e un guarito. Il punto a firma di Sergio Genovese è il vero problema dei giovani mentre al centropagina torna per l'estate. Ma quale turismo impossibile? Perfino fare il richiamo residente in Emilia e rientrata come ogni anno in paese la donna rimpallata tra Asrem e Comune in Sicilia. Ho risolto in 20 minuti. Vaccini, l'Abruzzo ferma e furbetti che arrivano dal Molise. Dose solo a chi è in vacanza. Intanto i dati contrastanti sul turismo. Operatori balneari e ristoratori lavoriamo meno degli anni passati. Nucleo industriale dopo l'esposto Romagnuolo si dimette. Toma nomina Angiolini. Dentro la notizia Trivento. La pena non è prescritta. Arrestato ieri mattina a Parigi. L'ex brigatista Maurizio Di Marzio a Campobasso. Movida fuori controllo da Alessandro della Lega. Punto il dito contro il sindaco Gravina. Dia un segnale per lo sport nei tagli alti. Con il Campobasso anche Van Zan resta in rosso-blu. Ufficiali Candellori, Ladu, Menna e Raccichini. Mentre a Vasto Girardi trattativa con guida oggi la svolta. Il ritiro in Alto Molise dal 5 agosto. Cip Molise, la staffetta ideata da Alex Zanardi, ha fatto tappa a Termoli. Adesso i quotidiani nazionali. Si parla di vaccino ma soprattutto di Green Pass. con le novità che si intravedono da qui in avanti. Vediamo i titoli del messaggero. Il Green Pass diventa regionale. I nuovi parametri per le zone a colori in giallo con le terapie intensive oltre il 5%. Paradosso controlli assenti per gli stranieri in arrivo severi per gli italiani che partono. Genova, il G8, questioni aperte, gli effetti non previsti sulla politica. Poi all'interno Draghi e Conte, il vertice del disgelo. Ma sulla giustizia, modifiche minime. Il leader del Movimento 5 Stelle dice l'accordo è possibile. La transizione sia graduale. A rischio. Molti posti di lavoro, a dirlo, è cingolani. Dobbiamo evitare bagni di sangue. Mentre l'immagine centrale, Brexit, prime vittime, gli antiquari londinesi. Interrotto il commercio con l'Europa. Passiamo così ai titoli del quotidiano. Il Corriere della Sera ha un Green Pass a due livelli. L'ipotesi al ristorante con una sola dose. Intanto c'è la lite di Lega sull'obbligo per i professori. Le misure allo studio. Tonfo delle borse per la variante Delta. Meloni assicura. Io mi vaccinerò. Giustizia faccia a faccia tra Draghi e Conte da Palazzo Chigi. No a bandierine di partito. Intanto si parla anche di omofobia con Letta che apre al confronto. Mentre per quanto riguarda le garanzie a metà arrivate dall'ex premier, l'analisi di Massimo Franco su parole e comportamenti. Con le dichiarazioni evidentemente di Giuseppe Conte. Mentre l'immagine centrale, Olimpiade, un positivo sull'aereo degli Azzurri. Contagiato un giornalista a Tokyo. Nessun contatto con gli atleti. Passiamo alla Repubblica. Vaccino dell'obbligo. Lotta al virus nelle scuole. Allarme per i ritardi nelle somministrazioni al personale scolastico in quattro regioni. Bonaccini. Bisogna imporle. Mentre Letta chiede al governo iniziative stringenti. Il ministro Bianchi dice la decisione sarà collegiale. Ma Salvini è contrario. Metà degli italiani ha ricevuto la doppia dose. Pronto il Green Pass d'agosto. L'analisi a firma di Tito Bocri. C'è un prezzo da pagare per quel rifiuto. Mentre i contagi record in Asia. Il flop delle fiale prodotte in Cina. L'immagine centrale. Così il Libano non rivede la luce. Il reportage da Beirut a un anno dall'esplosione nel porto. L'immagine che vediamo sono gomme bruciate per protesta nella capitale libanese. La politica italiana, Draghi Conte, sulla giustizia è tregua. Via alla mediazione. Intanto parla anche Elsa Fornero. Il mio ritorno è una rivincita. Passiamo al fatto quotidiano. Giustizia. Conte non è solo. Allarme dal Colle. Il capo 5 Stelle chiede a Draghi di aprire a modifiche i timori del Quirinale sul Parlamento che dà ordini ai PM. L'ex premier vuole evitare la morte dei processi d'appello ai magistrati al CSM. Eppure nel taglio alto asse fra Cingolani e Giorgetti. Green costoso per i padroni critiche congiunte al piano dell'Unione Europea di riconversione. Il sole 24 ore apre con la sanità. 17 mila posti per giovani medici. Il piano specializzazioni. Il concorso prevede il triplo di borse di studio rispetto al 2018. Intanto nel taglio alto più contagi e variante delta. Lunedì di paura nelle borse. Il petrolio torna sotto i 70 dollari. DL semplificazioni. A sorpresa spunte il patto per Roma nel PNRR. Si parla di politica economica. All'interno c'è anche l'intervista ad Aurelio Regina. Green deal. Sua sfida per le imprese. Il governo ci convochi. Rapporto Conai. Italia al 73% nel riciclo imballaggi. La migliore dell'intera Europa. C'è anche l'articolo sull'accordo. Team e Dazon spingere i ricavi dal 2022. 22. Lo sport con i titoli della gazzetta dello sport che apre sul calciomercato. Ibra una fretta del diavolo. Scatta l'operazione ritorno. Allenamenti sempre più intensi. Salta anche i giorni di riposo. Il Milan lo vuole in campo per il via del campionato. intanto Inter la trattativa con Nandez. Ok di Inzaghi. Il tecnico lo vuole perché può fare esterno o mezzala. E ora si accelera la svolta per l'uruguaiano. Poi c'è anche Pjanic in primo piano. La strategia dei bianconeri per riportarlo a Torino. Nel centrocampo ad alta qualità. Allegri prenota l'ex in prestito attualmente al Barcellona. Il grazie di Vialli in pellegrinaggio al santuario. Questo è il tempo della gratitudine. Dopo il titolo europeo l'immagine di un Vialli sereno appunto al santuario a Cremona. L'allarme dello spezia. il medico accusa. Il nostro focolaio è colpa di due giocatori Novax. La squadra Ligure e il Covid. Le olimpiadi in basso con l'immagine di Vezzali che carica gli azzurri. Possiamo lasciare il segno. Le sorelle d'Italia fanno il record. Sono 187 su 384. Poi ecco Van Aert il rivale di Ganna a cerco due ori. È reduce da un grande tour. Adesso diamo uno sguardo agli appuntamenti previsti per quest'oggi sulla nostra rete. Si parte alle ore 11 con fuoco incrociato. L'edizione del telegiornale alle 14. Alle ore 16 fuoco incrociato. Musa TV alle 18.30. A 19.30 l'edizione serale del nostro telegiornale. Alle 20 Italia Economia. Alle 21 Paese Mio. Alle 23 l'ultima edizione del telegiornale. E con questo è tutto. Grazie per averci scelto. A tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie. 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 Grazie a tutti